www.wr6.rai.it Gentili ascoltatori, buongiorno. Dallo studio centrale, Roberto Bortoluzzi augura un buon ascolto. Lo studio con gli altri primi tempi. A Foggia, Camponeutro, Bari 0, Internazionale 0. A Vicenza, la Nerossi Vicenza 0, Sampdoria 0. A Napoli, ricordiamo la partita iniziata alle 15, il primo tempo era terminato, Napoli 0, Bologna 0. Ora siamo al venticinquesimo della ripresa, risultato immutato. Napoli 0 e Bologna 0. A Internazionale, Batebari 1 a 0. A Vicenza, la Nerossi Vicenza batte Sampdoria 2 a 1. A Napoli, Napoli e Bologna 0 a 0. A Verona, Ellas Verona e Lazio 1 a 1.